la casa editrice che pubblica come modello di marketing territoriale il progetto della fatamorgana che è stato la piazza è un atto democratico libero e civile perciò vai e vai e vedi dove devi andare perché che fai se fischio quando non ci sei tu davanti ma cosa veramente ma avete superato non mi puoi vietare a me di dimostrare in maniera civile venga a casa tua io devi sentire non sono politico io non sono politico io ti sento io ti sento in maniera democratica ho pagato la piazza dove sono quelli della dicos voglio vedere come viene la dicos che mi ha importunato mi ha lasciato pure le mani vergognati 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 la politica del fare la politica del fare cosa ma scusa hai fatto politica tu che cosa hai fatto la politica del fare cosa ho fatto molto più